Voci.fm, il sito delle voci. Immaginate di avere una storia con protagonisti, un attore, ex coach ed importanti divi e ora padrone di una scuola di recitazione, e il suo migliore amico, un importante produttore di Hollywood, cinico uomo d'affari, che sta per perdere la persona più cara al mondo. E se queste due guest star fossero interpretate da due leggende della recitazione come Michael Douglas e Alan Arkin? Oggi vi parliamo di una delle serie più originali degli ultimi tempi, una serie Netflix intitolata Il Metodo Kominsky. È doloroso essere umani, fa male da morire, e potete esplorare il mondo quanto volete, ma quel dolore non se ne andrà, perché essere umani ed essere feriti sono la stessa maledetta cosa. Il protagonista principale, Sandy Kominsky, dopo una breve carriera a Hollywood come attore, decide di aprire una scuola di recitazione utilizzando il suo Metodo Kominsky, una scuola molto amata e rispettata nell'ambiente. Sandy gestisce questa scuola con sua figlia Mindy, ma se, da un lato, la sua figura come insegnante e come attore è molto amata e rispettata, lo stesso non si può dire di quella di padre e di uomo, afflitto dai problemi di invecchiamento. È come lui Norman Newlander, suo migliore amico e potente produttore di Hollywood, cinico uomo d'affari, ma che sta per perdere l'unica persona che abbia mai amato al mondo, sua moglie. La serie è un bel mix tra dramma e commedia, con dei dialoghi brillanti e audaci, e non perde mai il suo ritmo frizzante. E inoltre, alcuni episodi hanno a sorpresa delle famose guest star. Michael Douglas e Alan Harkin danno un'ottima prova di recitazione, e non era per niente facile trovare due voci italiane che riuscissero a rendere nella nostra lingua la stessa intensità. Ma la direttrice Sonia Scotti, voce di Whoopi Goldberg e di Judy Dench, trova in Gianni Giuliano e Franco Zucca i perfetti alfieri di due personaggi particolari e molto imprevedibili. Completano il cast Alessandra Corrompai nel ruolo di Lisa, l'attraente allieva di Sandy, Rachele Paolelli, voce di Mindy Kominsky, e Antonella Alessandro, doppiatrice di Phoebe Newlander, figlia di Norman. E voi l'avete vista? Continueremo ancora a parlare di serie tv, film e naturalmente di doppiaggio sempre qui, sul blog di Voci.fm, il sito delle voci. Un saluto da Alessandro Delfino.